hello guys benvenuti in questo nuovo video io sono skydit 1999 e oggi siamo di nuovo nel secondo video dedicato diciamo all'unboxing e alla recensione degli action figures dedicati al a terminator oggi vi faccio vedere diciamo ormai questo qui è già aperto da tanto ma vi farò vedere diciamo la confezione poi anche dopo al action figures dedicata la mac farlane che in pratica è un diciamo non proprio scrittore ma è uno che ha creato dei fumetti sia spawn terminator aliens e predator ma vi assicuro ragazzi che sia che trovate action figures e fumetti e veramente sono stupendi allora oggi bando alla ciance vi faccio vedere terminator 3 rise of the machines che in pratica casa questa scatola rappresenta sarebbe la scena finale del film allora sapete che nel film non si sono mai fatti diciamo nel finale del film non si sono mai fatto vedere come si scontrano ma per vedere come si scontrano si vede solamente nella scena del videogioco cioè per la playstation 2 sia sia il nome terminator 3 rise of the machines allora questa confezione si presenta diciamo qui era presente il diorama qui c'era la tx endoscheletro e il t850 qui rappresenta la faccia di arnold cioè il t8 150 girando da questa parte qui si presenta diciamo la storia cioè la storia del film poi la fine della battaglia e presi si presenta pure l'endoscheletro della tx il nome pure ecco vedete qui è presente pure la mac farlane toys e il simbolo di quello che ha creato dell'azienda pure e qui notiamo altri action figures qui è questo quel che ci abbiamo adesso noi questi sono altri personaggi diciamo extra allora quelle che c'ho io per adesso c'ho solamente questo il t850 e l'endoscheletro della tx mi mancano solamente questi due che forse più avanti futuro ne porterò nel mio canale e questo rappresenta il arnold credo che sia da quell' altezza che non mi ricordo ragazzi con quant'era mi sembra che era 1,4 cm scale che la cosa vera che contiene anche suoni della voce del film che rappresenta che rappresenta nel film e poi qui c'è il t850 danneggiato poi la storia e poi niente e rappresenta proprio tutta questa intera scatola ok ora passiamo all'action toys ed ecco qui guys finalmente vi faccio vedere la mia diorama del terminator della battaglia finale allora questo qui rappresenta sia la tx versione endoscheletro e il t850 versione danneggiata e questa bellissima daiorama rappresenta cioè quello del finale che questo qui è aspetta non mi riesce a tenerlo ecco rappresenta l'elicottero danneggiato quello che in pratica il t850 metteva sotto questo qui che dopo aveva preso tutto fuoco si vede che ci sono delle parti bruciate danneggiate poi persino i vetri rotti no allora ora vi faccio vedere il personaggio che sarebbe il t850 guardate come come veramente fatta bene no aspettate non so se si vede nel video che il problema che ecco guardate come è realizzata veramente veramente bene come comunque come il painting sia della carne proprio bruciata mamma mia come vedete persino anche la giacca è veramente fatta bene guarda veramente non ho parole è una cosa veramente bella allora mettiamo qui in più in questa in questa scatola qui c'era altri dei suoi accessori per la tx cioè le mani intercambiabili che adesso non ce l'ho qui credo che l'ho messo da qualche parte ma solamente che ora vi faccio vedere che questa parte qui si può si può anche rimuovere ma io voglio evitare di non togliere perché io avevo la stessa versione su di lei però era era rotta ma dopo l'avevo attaccato con dell'attacco quindi io voglio tenerlo così allora questo è la versione tx ma vi faccio vedere anche l'altra versione che c'ho io no che sarebbe questa questa sarebbe quella originale questo sarebbe si è caduto tutti va bene comunque questa è la versione dell'attacco che qui dietro c'è una sorta di leva per far rendere luce come come questa versione qui in pratica blu tutto veramente blu però questo qui sarebbe tutto quello originale normale come vedete è proprio uguale identici della stessa cosa però qui è proprio con la luce ecco come vedete qui l'ho attaccato con dell'alco della dell'attacco perché se mi si era rotto il pezzo di braccio quindi l'ho dovuto rendere più più bella perché visto questo era un cannone plasma invece questo qui senza io lo volevo tenerlo così ok la parte della tx vi ha fatto vedere ora mettiamo mettiamo questo qui non mi ricordo perché metterlo veramente è veramente complicata a meno che questo non si rompa ecco qui credo che l'ho messo bene va bene lo metterò più tardi dopo così ecco poi la versione del del t850 cioè io c'ho anche un'altra versione che sarebbe questo con gli occhiali vedete come anche questo qui è stata realizzata sempre dalla mac far lane vedete come come il giacchetto proprio veramente fatto veramente anche questo qui si è notata anche il suo il suo ruotatore tamburo del lanciagranate si muoverà veramente bene proprio identici sia anche di giacca poi guardate poi in più quel l'altra versione del t850 anche della tx è presente anche persino del piccolo mini diorama dove si possono mettere anche le cose sui loro piedi no adesso non riesce ecco poi in più è presenta solamente un piccolo oggetto qui che sarebbe la casa porta munizioni che serve questa volta è danneggiata e anche questo fatto veramente bene ok ragazzi ora che avete visto tutto qui è presente pure anche su questo è il questo elicottero danneggiato si può anche accendere le luci ma solamente che quando l'ho ordinato qui sembra che non funziona tutto ma io non mi importava per niente quindi l'ho lasciato così senza mettere delle pile ok ragazzi ora che avete visto tutto diciamo la mia mac far lane potete anche vedermi anche le mie foto sia su instagram e su facebook che anche alcuni di là gli ho aggiunte alcune foto perché io ultimamente faccio foto foto toys che mi piace realizzare le cose su instagram e ok allora se vi è piaciuto questo video lasciate un commento un like oppure passate sia sugli altri profili social network che ho giù in descrizione sia facebook instagram ed tutto questo è tutto e ci vediamo alla prossima al prossimo video ciao